Preparati amore, comincia la nostra diretta. Rimettiti al centro, conosco la tempra che hai. I love you. Radio Amore. I love you. Indovina chi viene in radio. Bene, abbiamo un nostro amico, carissimo amico, che ci assiste. Ogni qualvolta dobbiamo parlare di cose legate all'ambiente e anche alla nostra salute. E diamo così il buongiorno e il benvenuto, un ben ritornato qui a Radio Amore, il professor Gennaro D'Amato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, noi l'abbiamo chiamata anche per un motivo importante. Lei ha il coraggio, è caso di dire, di organizzare qui a Napoli, a dimostrazione che a Napoli si possono anche organizzare le cose belle, un congresso sulle malattie respiratorie e le strategie terapeutiche, che si verrà giovedì 26 e venerdì 27 a Napoli, presso l'hotel Ramada di Napoli. E in effetti ha un suo nome, sempre, e siamo arrivati alla diciannovesima edizione, il paziente respiratorio dalla clinica alle strategie terapeutiche. Ce ne parlo un po' in più, professore. Io la ringrazio per darmi questa opportunità. È un evento che in effetti iniziò una trentina di anni fa, perché prima veniva organizzato da me e dai miei collaboratori ogni due o tre anni. Adesso, da alcuni anni e ogni anno, e questa appunto è la diciannovesima edizione, ed ogni anno cresce il numero delle persone, dei partecipanti. Ovviamente è riservato a medici, specialisti in malattie respiratorie, in allergologia, in pediatria, anche medici di medicina generale. Ed è un'occasione di aggiornamento che mi stimola ogni anno a riorganizzarlo, perché agli inizi dell'anno è un'occasione anche di incontro di tanti specialisti e quindi anche di, si è ancora in tempo per farsi gli auguri per un ottimo anno nuovo, ma soprattutto per un aggiornamento con i migliori specialisti italiani e anche dell'estero. Immagini che un grande specialista, Marc Miraville, il professore Marc Miraville, verrà appunto giovedì per una lezione sul trattamento ottimale delle patologie respiratorie ostruttive, quindi di asma, di enfisema e di broncopatia cronica ostruttiva, direttamente da Barcellona, viene a tenere la lettura e rientra su Madrid la sera. Questo è un motivo di orgoglio, perché se tanti colleghi amici vengono per far lezione, non in senso accademico, perché veramente c'è molta discussione, quindi c'è una trasmissione di informazione e di formazione e i partecipanti, noi abbiamo 150 iscritti, non pochissimi, appunto, che stanno in full immersion, lì seduti, quasi attaccati con l'Attac alle sedie a prendere appunti, eccetera, è un motivo di orgoglio, nel senso che iniziamo l'anno con queste informazioni, formazioni e anche con questi rapporti di amicizia che, appunto, è qualche cosa di bello. Anche perché in un anno, diciamo, cambiano tante cose, per fortuna, diciamo che la medicina fa sistematici passi in avanti, quindi ecco ci sono poi novità che è giusto che gli specialisti che abbiano voglia, ecco, voglio dire poi, di fare cose buone che possano seguire, ecco, incontri di questo tipo che non fanno altro che arricchire, ecco, già il bagaglio interessante e ricco di tanti giovani, perché immagino che tra gli iscritti ci sarà una gran parte di giovani medici. Assolutamente, anzi, questo è un evento che, appunto, stimola moltissimo i giovani e, francamente, i giovani della scuola di specializzazione della Federico II in malattie respiratorie vengono, partecipano, io sono grato anche al direttore, l'amico professor Sanduzzi, con cui, appunto, collaboro per quanto riguarda lezioni e verranno a presentare casi clinici, che è molto bello, soprattutto il venerdì mattina, immagini alle 7.30 si comincia, mentre giovedì alle 8.30 io stimolo proprio ad essere puntuali, perché abbiamo un fitto calendario di lezioni, proprio, ripeto, in full immersion. E ogni anno c'è qualcosa di nuovo, quest'anno credo ancora di più degli altri anni, perché immagini sono usciti ben 6 nuovi prodotti per la cura della broncopatia cronico-ostruttiva e dell'enfisema e per la prevenzione anche dell'enfisema. E, francamente, il posizionarli con la guida dei migliori specialisti italiani e credo che sia un servizio che noi rendiamo anche al medico di medicina generale, il quale poverino vuole sapere come trattare, appunto, questi pazienti, se continuare con la terapia cortisonica inalatoria oppure fare soltanto i broncodilatatori. Adesso c'è proprio una sorta di rivoluzione negli ultimi due anni e in particolare nell'ultimo anno, con l'immissione in commercio di questi prodotti del tutto nuovi. Bene, professore. Allora, noi contiamo di venire a farvi una visita, ovviamente, perché noi capiamo ben poco di questi argomenti, ma giusto per salutarla nel pieno della sua attività di professore. Intanto le faccio una domanda generica che sicuramente sarà di interesse anche per gli ascoltatori che stanno attualmente collegati con Radio Amore, perché, abbiamo detto prima, abbiamo accennato in privato, lo diciamo adesso pubblicamente, l'influenza di quest'anno è stata devastante, nel senso che non è che sia stata così pesante, però ha creato delle complicazioni scocciantissime, tra le quali una tosse violentissima ed improvvisa. Io non ne sono stato immune, anzi, sono disperato come tanti altri. Come fare? Lei pare che ci abbia una dritta per noi. Diciamo che ogni anno c'è qualche novità. In genere, le norme di prudenza che oltre tutto inserisco anche nella pagina Facebook Respiro Italia e nel blog respiroitalia.org, per dare proprio dei consigli, posso dire che effettivamente, come diceva lei, è stata devastante ed è tuttora abbastanza devastante con una febbre che a volte non passa, se non dopo diversi giorni e il punto è usare o meno gli antibiotici, per questo rinvio ai medici di medicina generale e agli specialisti per la verifica della necessità o meno del corretto uso degli antibiotici. Una cosa è certa e che per fortuna, anche se molto più scocciante rispetto all'anno scorso soprattutto e agli altri anni, sto vedendo, almeno nella mia pratica privata, un numero inferiore di polmoniti, di complicazioni e questo significa che ci sarebbe meno necessità di andare al pronto soccorso, di ricoverarsi in ospedale. Però, attenzione, quest'anno, un po' di più che degli anni scorsi, c'è una tusse che si complica con il reflusso gastroesofageo e che questo amplifica la sintomatologia, anche se il paziente dice, ma io non avverto in gola che mi sale quello che ho mangiato, così come avviene nel reflusso gastroesofageo. Ebbene, questo non sempre avviene, se avviene e si avverte l'acidità anche a livello di bocca, di retrofaringe, allora a maggior ragione bisogna fare anche una protezione gastrica, ma anche se non c'è, perché sappiamo che anche il reflusso che si ferma a livello dell'esofago può indurre l'insorgenza di broncospasmo e quindi di tosse, per cui al di là delle terapie broncodilatanti, anche cortisoniche, eventualmente anche antibiotici correttamente somministrati, c'è da dare anche, consigliare appunto la sera, quando si va a letto, una protezione gastrica, evito di fare il nome commerciale, anche se è molto comune, ma... E facciamolo, non c'è problema. E diciamo che, ecco, tipo Gaviscon è consigliabile anche in associazione alle altre terapie, comunque sempre sotto un controllo specialistico. Ecco, ovviamente chiudiamo appunto questa telefonata dicendo che il fai da sé non va bene, specialmente in medicina, per cui voglio dire, è chiaro che laddove i sintomi sono importanti è opportuno, insomma, contattare il proprio medico, diversamente quando si eviti di andare in ospedale, perché mi pare di poter dire, ma credo che lei sarà d'accordo con me, magari se ci vai bene in ospedale incontrando altri che ci avranno un po' di influenza, te la becchi invece di andare via bene, insomma. Assolutamente sì, proprio stamattina ho messo questa informazione, perché ad esempio il Cardarelli è strapieno di barelle, ora l'esperienza di 30 anni di primariato mi dice che è soltanto una quota parte effettivamente delle persone che vanno a ricoverarsi in eccessia di ricovero. È opportuno verificare prima se c'è o meno una broncopolmonite, altrimenti per l'influenza si sta a casa, non è che si va in ospedale, appunto come diceva lei, con il rischio di infettarsi addirittura con infezioni nosocomiali, cioè con batteri presi in ospedale e trasmessi da altri pazienti e che possono essere molto pericolosi, anche perché in genere sono anche antibiotico resistenti. Benissimo, professore, io la ringrazio della sua testimonianza come sempre preziosa, le auguro buon lavoro per questo congresso, il paziente respiratorio dalla Clinica alle Strategie Terapeutiche, diciannovesima edizione, Oteo Ramada, chiedo scusa, 26 e 27 gennaio 2017. Grazie professore, alla prossima. E grazie a lei e vi aspetto volentieri. Senz'altro, grazie, un abbraccio anche da parte nostra, grazie e arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Indovina chi viene in radio. Grazie. 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 Grazie.